Le dimissioni di Claudio Fiume da assessore a Fiume Freddo di Sicilia sono state già protocollate e venerdì, l'orario ancora da stabilire, giurerà la sua successora da lui stesso designata, Maria Siciliano. Da decidere in settimana se la Siciliano riceverà le stesse deleghe del suo mentore in una sorta di travaso perfetto oppure l'avvicendamento all'interno del gruppo Fiume sarà l'occasione per il sindaco Marco Alosi per rimescolare le carte. Più probabile la prima ipotesi anche perché il primo cittadino fino a questo momento non ha convocato nessun vertice di maggioranza, il che lascia intendere che le pedine non saranno spostate. Ma dopo la nomina di Maria Siciliano anche Alosi dovrà comunque provare a coinvolgere maggiormente i propri consiglieri, quantomeno prima della sessione di bilancio, che però nel civico consesso non si aprirà prima di dicembre, considerato che solo la settimana prossima arriverà in giunte il conto consuntivo.